E' uno dei riconfermati della passata stagione, Alfredo Bifulco punta a disputare un campionato al top con la maglia del Taranto dopo il finale in crescendo dello scorso anno. Ai microfoni di Antenna Sud, direttamente da Cascia, ha elogiato il lavoro del gruppo in cui spiccano diverse novità in termini di interpreti. Un nuovo Taranto con dei volti nuovi, ci sono dei ragazzi giovani, la squadra si sta completando e quindi stiamo lavorando alla grande. Un vantaggio non indifferente, poter contare su una base di lavoro già ben assortita. Diciamo il gruppo storico dell'anno scorso è rimasto quasi più della metà, poi come ho detto ci sono stati degli innesti sia di ragazzi giovani che di gente anche di esperienza e poi queste cose le vedrà la società, comunque la squadra si sta completando alla grande. Bifulco Cianci, una coppia d'attacco che può far sognare i tifosi del Taranto, dello stesso avviso il fantasista ex Juve Stabia. Ci stiamo iniziando a conoscere però è un attaccante forte di categorie e quindi sono contento di stare a fianco a lui.